Salve, in questo video faremo esempi specifici su tecniche particolari. Uno strumento molto potente che può essere usato da solo o accoppiato a un blu banana sono le forme, dette anche power windows o maschere. Sono delle semplici forme rettangolari o d'ovali con bordi sfumati a piacere, che usiamo per isolare i soggetti che ci interessano dal resto dell'immagine. Se nell'RGG non ha un tale strumento, purtroppo, ma si può fare un workaround clonando il filmato su un'altra traccia sottostante e poi, su quella originale, creare delle maschere per isolare la regione o le figure su cui vogliamo intervenire. È più lento, impreciso e impegna di più le risorse del sistema, ma porta comunque a buoni risultati. Similmente possiamo usare, al posto della traccia clone, una traccia condivisa. Si crea una traccia vuota, vi si fa clic con il tasto destro e si sceglie Aggiungi effetto e nella colonna di destra si sceglie la traccia che condividerà i suoi dati e la sua struttura con la traccia vuota che abbiamo appena creato. Un altro metodo efficace per esaltare una parte del frame a scapito delle altre consiste nell'usare la vignettatura. In Senelera GG abbiamo a disposizione il plugin di FFmpeg chiamato F-Vignette. Ma se uno trova in digest la gestione a linea di comando di questi filtri, può sempre utilizzare il plugin Gradiente e modificarlo facilmente in modo da simulare una vignettatura. Intendiamoci, i risultati migliori si ottengono sul set durante le riprese, con il direttore della fotografia che usa luci spot, pannelli riflettenti e vere e proprie maschere da applicare all'obiettivo. Comunque, anche in post-produzione possiamo ottenere risultati gregi. La vignettatura torna utile per illuminare il soggetto mettendolo in risalto dallo sfondo più scuro. In questo modo doniamo anche profondità all'immagine. Particularmente importante è illuminare le facce dei protagonisti, guidando lo sguardo degli spettatori su di loro, oppure facendo diventare le ombre ancora più profonde, cosa anche questa serve a dare profondità attirando lo sguardo sulle rimanenti parti illuminate. Il parametro più importante è controllare la sfumatura dei bordi. bisogna evitare aloni di luce irreali intorno alla figura, calibrando attentamente la zona di applicazione della vignettatura. ma ancora più importante è adattare la sfumatura alla forma della figura. Un altro importante argomento sono i keyframes e di come possono diventare utili nella color correction. L'uso dei fotogrammi chiave in Sennelera GG l'ho già approfondito nel video 09, per cui non ci ritorno sopra. la loro applicazione durante la color correction riguarda soprattutto l'uso delle maschere quando si presenta l'esigenza di spostarle insieme alle figure che circoscrivono. anche in questo ho già parlato nel video 08, a cui rimando. Alexis Valjurkman, nel libro che vi voglio costringere a leggere, dice che spesso gli capita di fare correzioni dinamiche, cioè con i keyframe, sull'esposizione. Per esempio quando passa una nuvola durante lo stesso shot, oppure quando la carrellata inquadra zone a diversa luminosità consecutivamente, ma i casi sono tanti. A volte queste differenze di luminosità sono poco avvertibili ad occhio nudo, ma basta esaminare il waveform per rendersi conto di picchi che si alzano o abbassano di continuo con lo scorrere del filmato. Quindi l'analisi preliminare del video, come abbiamo più volte ricordato, si dimostra ancora una volta essenziale. Fortunatamente questo tipo di correzioni portano spesso a buoni risultati, se non addirittura alla completa risoluzione del problema. Come pratica generale è consigliabile usare una traccia clonata o meglio ancora una traccia condivisa, così non alteriamo il grading fatto sulla traccia originale, che rimane intatto. Il primo passo è mettere un keyframe sul primo frame normale dopo la sequenza di frame da regolare. Così fissiamo i parametri normali di tutto lo shot a seguire, che non verranno alterati. Lo stesso facciamo all'inizio della zona da modificare, fissando ancora una volta i parametri normali per il filmato precedente. Spesso questo primo keyframe si trova esattamente all'inizio dello shot, ma non è detto. Adesso mettiamo un terzo keyframe nel fotogramma che presenta la massima differenza di esposizione, lo scarto maggiore insomma. Lo chiamo il terzo keyframe, ma come vedete viene messo nel mezzo dei due keyframe normali. Adesso basta abbassare l'esposizione in questo punto in modo da portarla al valore normale, agendo su un qualche filtro adatto, contrasto, luminosità o saturazione, se questa viene alterata dalle precedenti modifiche. Ovviamente l'entità della correzione va controllata sul waveform, ma questo lo sappiamo già a questo punto. Tale procedimento va ripetuto per tutte le zone di esposizione alterata rispetto al normale. Altro esempio simile a quello dell'esposizione riguarda il cambiamento dinamico di tonalità durante la medesima ripresa. È un caso più raro, ma che può verificarsi quando una macchina da presa attarata, per esempio, sulla luce solare, segue il soggetto fin dentro una casa illuminata da lampade al tungsteno, il tutto in un unico shot senza soluzione di continuità. Si passerà quindi da colori naturali a quelli dell'interno con una forte dominante giallo-arancio. Il procedimento è simile al precedente, ma cambiano i plug-in utilizzati. Il primo passo è fare la color correction primaria per bilanciare il colore e il contrasto. Poi si delimita la zona che presenta il cambio di tonalità con due keyframe, come si sa. Si individua una zona in cui lo shift di colore è massimo e si mette un altro keyframe. Adesso si fanno le regolazioni con bilanciamento colore o color three-way, eccetera, per riportare tutto in equilibrio con la parte in esterno. Durante le riprese interne può accadere di inquadrare una finestra che dà sull'esterno. Dato la correzione che abbiamo fatto, la luce che vi filtra risulterà molto blu. In questo caso, trattandosi di una parte limitata del frame, si può usare blu banana per la correzione. Dato che la differenza di tonalità e luminosità permetteranno di estrarre la maschera di selezione con facilità. In altri casi occorrerà usare una maschera dinamica, quando le zone di differente colore sono mobile e circoscritte, a precise zone del frame. È il caso, per esempio, di uno specchietto della macchina inquadrato come parte di tutta l'inquadratura. In un caso come questo, risulta comodo separare lo specchietto con una maschera animata e fare la correzione solo su questa. Ricordatevi sempre, quanto detto nel video precedente, cioè di curare molto la sfumatura dei bordi. Se abbiamo uno shot in cui si verifica una grossa divergenza fra colori da una parte e colori dalla parte seguente, allora l'uso dei keyframe, con o senza maschere dinamiche, non è sufficiente. Come affrontare questa problematica richiede un approfondimento teorico sul flusso di lavoro, dal reparto di montaggio fino al reparto di grading. Io semplicemente non ne parlerò, limitandomi ad un esempio minimale adatto a Sennel RGG e a chi lo usa. Ma se vi ho incuriosito sappiate che lo trovate in Color Correction Handbook, dove è esposto chiaramente con dovizia di particolari. Prendiamo una clip in cui, ad un certo punto, cambiano drasticamente le condizioni di colore e luminosità. Niente di quello che abbiamo visto riesce a creare un bilanciamento fra queste due parti. Allora, cosa dobbiamo fare? Niente, semplicemente niente. Facciamo un bel taglio proprio fra le due parti e creiamo due clip separate. Adesso rendiamo accettabile il passaggio fra una clip e l'altra usando un effetto di transizione. Così, non solo il passaggio non sarà irritante per chi guarda, ma sarà anche invitato a purci attenzione e a gustare la transizione. Furbo, vero? Infine vi propongo due compiti a casa su ulteriori usi del keyframe. 1. Fare un filmato di una persona che spinge l'interruttore della luce, facendo così passare l'ambiente da chiaro a scuro. 2. Riprendere il volto di una persona pallida come un cadavere, che pian piano riacquista colore e vita fino ad aprire gli occhi e sorridere. Vi ricordo la procedura principale. Studiare bene il filmato prima di intervenire. 3. Creare un keyframe all'inizio della clip o in altra posizione prima del cambiamento di luminosità o colore. 4. Fare la correzione primaria su questo keyframe fino a che l'immagine risulta come la vogliamo. Utilizziamo tutti i filtri che ci servono per fare questo. 5. Creare un secondo keyframe dove i parametri sono al loro più alto o più basso livello e in questo punto regoliamo la nuova luminosità colore. 6. Usare maschere dinamiche o blue banana se dobbiamo specificare delle zone particolari. 7. Se ad un certo punto del filmato dobbiamo ritornare alle condizioni originali, creare un nuovo keyframe e regolarlo come il primo. In realtà basta fare un copia e incolla del primo keyframe. 8. Se usiamo maschere bisogna ricorrere ad un clone della traccia, così la traccia base, quella con la correzione primaria, non sarà alterata ed in più possiamo agire su ogni traccia indipendentemente dalle altre e anche ritornare sui propri passi. 8. Se non riuscite a risolvere questi esercizi, potete trovare le procedure passo a passo indovinate dove? Esatto, nel libro di Van Yurkman. 9. Se non riuscite a risolvere questi esercizi,